Sì, sabato 24 e domenica 25 ottobre la comunità di Santa Rita vuole ritrovarsi. Non abbiamo potuto festeggiare a maggio la festa perché era un momento molto difficile. Anche questo è un momento difficile, ma noi non vogliamo rassegnarci. Per questo sabato 24 e domenica 25, nel cortile del nostro oratorio, all'aperto, con rispetto delle norme di sicurezza, ciascuno potrà prendere una rosa, accendere un lumino, venerare la statua della Santa, che per questa occasione porteremo all'aperto, tutta la giornata di sabato e tutta la giornata di domenica. È un momento bello, un momento per pregare, un momento per ritrovarci, un momento per continuare ad avere fiducia, un momento perché anche nella difficoltà noi sappiamo che Santa Rita non ci abbandona. Sono moltissimi i devoti che tutti i giorni frequentano il santuario e vogliamo dare loro un'occasione speciale. Come dicevo, lo faremo con la massima sicurezza. Abbiamo anche gli amici volontari dell'Unitalsi che assisteranno ai disabili. Tutti potranno farlo con tranquillità, mantenendo il distanziamento minimo di un metro, con le mascherine, coniugando sicurezza, preghiera, fiducia in Dio, sguardo verso il futuro. Noi siamo sicuri che Santa Rita non ci abbandona e siamo sicuri che anche grazie a lei riusciremo ad affrontare e a superare questo momento particolare. Abbiamo scelto di fare tutto all'aperto proprio perché questo ci dà maggiore tranquillità. Come dicevo, manteremo il distanziamento, manteremo le mascherine. Ciascuno potrà prendere la rosa. Ci sarà il momento della benedizione in gruppi ristretti, limitati, contingentati. Tutto il giorno di sabato, dalle otto e mezza sino a sera, tutto il giorno della domenica, dalle otto e mezza sino a sera. In parallelo nel santuario ci saranno le attività consuete, possibilità di confessarsi e le messe, con l'orario del sabato, con una messa in più alle 4 del pomeriggio e con l'orario della domenica che prevede messe dalle 7 del mattino alle 9 di sera. Penso sarà davvero una bella occasione per pregare e ritrovarci.